In Sicilia, lo scorso 17 novembre, sono 869 le domande presentate a Invitalia per Resto al Sud, l'incentivo dedicato ai giovani aspiranti imprenditori del Mezzogiorno. Di queste, 299 sono già state approvate e prevedono oltre 19 milioni di euro di investimenti per la creazione di 1.147 nuovi posti di lavoro sul territorio regionale. Sono i dati illustrati lo scorso 23 novembre a Palermo nel corso di un incontro organizzato da Sicindustria e dal gruppo Giovani Imprenditori della Sicilia, in collaborazione con Invitalia. L'economia meridionale, grazie all'intraprendenza dei giovani imprenditori, vuole dare cenni di vitalità. Durante l'incontro è stata espressa la necessità di una struttura adeguata, a supporto delle iniziative imprenditoriali, anche con investimenti pubblici. Durante il periodo della crisi, il Mezzogiorno è l'area che ha sofferto di più e in cui il sistema delle imprese è stato più volte colpito, ha affermato Massimo Sabatini, direttore dell'area politica e regionali di Confindustria. Ora c'è una vitalità, sicuramente non dovuta agli investimenti pubblici, che sono addirittura calati, ha detto, che non possiamo risperdere. Oggi un giovane imprenditore, più che restare al sud, deve resistere al sud, ha giunto il presidente dei giovani imprenditori della Sicilia, Gero Larocca. Occorre creare le condizioni strutturali, con politiche pubbliche efficaci, affinché i giovani non siano costretti a lasciare la Sicilia. L'incentivo ai giovani e alle imprese resto al sud è destinato a otto regioni del sud Italia. Sono l'Abruzzo, la Basilicata, la Calabria, la Campania, il Molise, la Puglia, la Sardegna e la Sicilia. In totale le domande presentate sono 5.036, per un investimento di quasi 333 milioni di euro, con cui dare lavoro a 18.371 persone. La maggior parte delle iniziative riguardano attività turistiche e culturali, con 2.627 domande, pari al 52% del totale. A seguire le attività manufatturieri e artigianali, la presenza femminile è pari al 43%. Il 35% degli aspiranti imprenditori, con la misura resto al sud, ricade nella fascia tra i 30 e i 35 anni. Il 26% di questi ha un titolo di studio molto alto. La regione che ha presentato più domande, 2341, è la Campania, seguita proprio dalla Sicilia, con le sue 869 domande.